Com'è quello della Roma? I tuoi colori sventolò I brividi mi vengono Non mi stacco mai di te Gintoneria Forza Gintoneria Bella cafonata, mi è piaciuta? No Gintoneria Un podcast tutto d'un sorso Adesso è uscito un bel romano Hai capito? No, ma lui ce l'ha sta cosa di fare dialettia Di dove pensi che io sia? No, no, dai Col di lana Via le col di lana Represiano Non è casa mia Cioè, si è casa mia ma è un affitto questo Eh, non lo so Non lo so, sono pugliese Pugliese di dove? Trani, vicino Bari Ah, cazzo, io sono originario molfettese Sì? A 10 km da casa mia, pazzesco Cioè, padre, madre o più? Nonno Sì, madre L'importante è comunque avere un terrone in famiglia È tipo un passepartout, può entrare ovunque È quella cosa che ti fa capire tanto Avere il terrone nel sangue Il terronismo nel sangue Ed è per questo che sei qui in questa puntata Episodio 22 di Gintoneria Podcast, amici Livio Ricciardi con noi Un applauso Ciao, buonasera Abbiamo anche il pubblico oggi per l'occasione Come stai? Abbastanza bene Un po' stanchino Cioè, sto un burnout Il primo mercoledì di febbraio Però va bene È un buon inizio È un buon inizio, sì, sì Questo 2023 è importante Dopo un mese bisogna già star male Bisogna già lamentarsi di qualcosa Sì, bisogna chiamare lo psicologo E dirgli Ehi, bro Tu hai studiato psicologia, tra l'altro Perché io ho spulciato un po' il tuo curriculum Quella cosa che si fa molto brutta Prima di diventare il curriculum Ho cercato, ho googlato Livio Ricciardi Su LinkedIn Che non ho No, LinkedIn neanche io Quindi non c'è stato modo Però tu sei laureato in psicologia E poi sessuologo Allora, io mi sono laureato Questo sarà Cioè, anche rispondo a tutte le persone Che ogni volta mi chiedono Qual è il tuo percorso di studi? Cioè, avete presente Tipo quello che se spruzza il profumo Su TikTok? Bellissimo Che dice come se spruzza il profumo E fa tre video al giorno su sta cosa E io lo faccio sul mio percorso di studi E lo ripeto ancora una volta Sono laureato triennale in psicologia A luglio prendo la magistrale in psicosessuologia clinica E ho un master in sessualità tipica Tipica di secondo livello Che mi abilita consulente sessuale Quindi sessuologo non ancora Ci stiamo arrivando Però consulente sessuale Come ci sei arrivato? Cioè, hai dovuto un po' lottare con ostacoli Magari, non so, in famiglia Comunicare Volevi fare questo Oppure tranquillo Ma in realtà È arrivata È un po' successo Perché io Sempre stato appassionato di psicologia Però psicologia in senso classico del termine Al massimo un pochino di relazioni E mi spulgiavo Roba di sessuologia Roba di relazioni E un giorno Tipo ho aperto Un box su Instagram Che lo faccio tuttora E si chiama Sex Out In cui do consigli Cioè, prima erano cose un po' più Alla cazzo Cioè, il consiglio che ti dà l'amico Adesso c'è un consiglio abbastanza professionale E tipo, da lì Quel box è cominciato ad andare bene È cominciato ad andare bene su TikTok E a un certo punto ho detto Mi piace Sai che c'è Mi piace Studiamolo Capiamolo Facciamolo Cioè Facciamolo Non è un nome caso Ho citato È pubblicità, capito? Come arriva Livio Giusto, giusto Product placement Diciamolo per bene Diciamolo per bene Cos'è? Facciamolo Facciamolo è il mio podcast In cui parlo di sessualità e psicologia Invito ospiti e faccio parlare di sesso le persone Le metto in imbarazzo Bello, bello In coda a questo episodio potete guardare Ascoltare Facciamolo Che male non vi fa Integrate meglio Grazie, grazie del product placement Molto esplicite Molto esplicite Esatto Vabbè, non lo diciamo che sul contratto pre-registrazione Crea delle aspettative fare questa tipologia di mestiere, possiamo dirlo Cioè nei confronti dei ragazzi Cazzo, sì Cioè la curiosità Anzi alla prestazione tipo No, a un certo punto io ho sofferto un botto di ansia alla prestazione Per tipo un periodo della mia vita, due o tre anni Adesso me ne frega un cazzo Giusto A parte che ormai sono sposato, però Salutiamo sua moglie off camera che è qui con noi Cioè sposato in modo che si dice In modo di dire a Roma Non sono realmente pro Ah no No, no, no Non ancora Non la fammo fomentare Il viaggio di ritorno Se no so cazzi Sarebbe bello di poi Arrivi lì tranquilla Con l'anellino sotto il sedile Mi hai fatto trovare Questa era tutta una scusa Per farvi stare insieme in questa giornata Parlarne E è venuto fuori così Sei un po' sting Per le donne sei un po' sting Faceva sesso tantrico per sette ore Pensanti presenti lì Hai quello standard di prestazione Quello che pensano le ragazze Potrebbero pensare Ah sì 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 No, tantrico no Ma io in realtà Cioè è un problema loro Se hanno aspettativa su di me Poi quello che succede succede Giusto Me la sono sempre vissuta Non ci la palla nell'altro campo Cioè cazzi vossi Sì sì Cioè se l'aspettativa ce l'hai te Non è che ma devi Passare Passare a me Certo Giusto Io trovo che sia un momento Incredibile Per tanti passaggi generazionali Soprattutto Under Under Nati negli anni 90 Insomma da lì in poi E tra le altre cose Come per la Non so penso La liberalizzazione Rispetto a Legalizzazione delle droghe leggere C'è una grande Crescente cultura Dell'educazione sessuale La percepisco Anche il fatto che tu Abbiamo un podcast E che abbiamo Un grande seguito Sì e me lo fanno Non me lo bannano Esatto Sì Straconcordo Ed è una cosa Con cui ogni tanto Mi appiccico con i miei colleghi Perché ovviamente La cosa che si dice comunemente È Siamo ancora indietro Dal punto di vista Dell'educazione sessuale Siamo indietro Cioè a livello politico Per quanto riguarda La liberalizzazione del sesso E tutto quanto Sì Però allo stesso tempo Secondo me Stiamo entrando serenamente In una nuova rivoluzione sessuale Cioè era già stata Intorno Tra gli anni 70 Agni 80 Con il 68 E tutto quanto Poi è arrivato l'HIV E ha fermato tutto Perché è risceso Uno stigma enorme Su quella che era Appunto Questo tipo di Di rivoluzione Questo Questo approccio Alla sessualità E quindi Adesso ci rischiamo Un altro virus Speriamo che non esce Un altro virus Io mi sono cagato troppo Sotto per il vaiolo Delle scimmie Ho detto E' il bis E invece È rimasto abbastanza Teniamo duro Assolutamente Tra l'altro è sparito Grazie a Dio Il vaiolo Ma le scimmie no? No le scimmie Perfetto Io adoro le scimmie Io vorrei prendere una da grande Ho due tartarughe Ma Io pure Però è tipo poco etico In Italia si Però Una mia amica è stata a Bali Di recente Si è presa una scimmia Per l'equivalente Di 150 euro Scontato perché Era una bella ragazza 75 E l'ha lasciata Prima di tornare Ma girava Questo è il sogno Tipo da Aladin L'ha lasciata dove? In Bali Girava in motorino Con la scimmia sulla spalla E l'ha abbandonata Due cose sono assurde Una donna che guida il motorino E la scimmia sulla spalla Ma come si approcciano Alle persone Che magari hanno bisogno D'aiuto Nei tuoi confronti Magari l'aiuto Un pochettino più professionale Cioè come Come nasce la collaborazione Con te? La consulenza Consulenza Ah la consulenza No io ho tipo Una code word Non so se si dica così Su Instagram In cui mi scrivono pesca E io rispondo E dico Parte un iter Insomma in cui capisco Se è roba che posso Prendere io Dal punto di vista professionale Oppure se serve Un altro tipo di professionista Che può essere Un sessuologo Con determinato tipo di approccio Oppure uno psicologo Così In caso lo posso prendere E ci facciamo La prima chiacchierata E poi si vede Ok quindi c'è una Una parola in codice E la pesca Ah è pesca scritto O l'emoticon Anche c'è chi Libera interpretazione Doppia lingua Anche la canna da pesca Se potrebbe Col pesce Diventa un po' più criptica Sì a volte le persone Fanno la pesca Non ho mai capito La pronuncia Pesca pesca Però comunque Il frutto E la canna Ah vedi 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 Attrice come si dice La pesca A pesca Più chiusa La pesca La pesca Grazie del mansplaining La pesca Ah ok ok Parenti pugliesi Del sud Del sud Meridionali Non andiamo bene Non andiamo bene Mi dispiace Cosa ti chiedono di solito Cioè la richiesta più comune Che ti arriva Comunque temi Che sono molto frequenti Che scaldano molto In consulenza In consulenza secondo me C'è tanto un discorso Di ansia da prestazione E proprio comprensione Della sessualità E quelli che possono essere Gli approcci Alla sessualità Perché E questo lo stiamo vedendo Anche dal punto di vista Di ricerca E sto cercando Di fare uno studio Al riguardo Secondo me Ma anche secondo molti Sta cambiando un pochino Quella che Che sono le cause Di determinate disfunzioni E spesso e volentieri Dentro Dietro Sembra esserci Un po' di ansia da prestazione E un bel po' Perché Soprattutto in Italia Cosa è un esempio pratico Di quello che hai descritto Cioè L'ansia da prestazione Non innanzitutto Come si esprime L'ansia da prestazione Cioè Disfunzione rettile Sì ma anche Eiaculazione precoce Devo performare bene Perché ho conosciuto Questa ragazza Mi piace Voglio che La nostra attività Sessuale vada bene Metto nel sesso Il significato Di proseguimento Del nostro rapporto E Troppo peso Su La prestazione La conseguenza Poi più o meno Diretta È la disfunzione Rettile Oppure L'eiaculazione Una sorta di over thinking Legato alla prestazione In questo senso Normalizzare Parlarne molto Fare divulgazione Educazione sessuale Aiuta a normalizzare il sesso A renderlo Umano Quindi comprende anche La disfunzione Può essere Se Magari non valica Il confine del patologico Può essere una cosa Normalissima Deve esserlo Ma poi la celecca Capita a chiunque L'importante è proprio Cioè io Quello che cerco di fare Sui social È di normalizzare Una sessualità Positiva Cioè adesso c'è Il filone sex positive E io Lo sento mio No E pure quello che cerco Di fare con la rubrica Che va di più Che è Si chiama Esperienze bruttine In cui chiedo Di raccontarmi E tutti ce l'hanno No a me è mai successo Amos Mi scriverà Nella rubrica Bruttine no Brutte 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 vere Bruttine no Io ho quelle importanti Lui le hanno scritte contro Tutte le sue partner No scusa Ti ho interrotto Stai dicendo qualcosa di serio E il tentativo È proprio quello Di far vedere Quanto sia comune Fa una figura De merda a letto Che ci sia Un po' di guffaggini A letto Che il sesso Non sia Quella cosa Super perfetta Che devi fare I capriole E quella Devi chiamare Amiche Ho un po' capito Che mi sono scopato Che mi faccia Ma Il porno Ha molto spettacolarizzato Il sesso Cioè L'idea che ha Un ragazzo Che approccia Parlo per Un ragazzo Autobiograficamente Che approccia Il sesso La pensi Guardando il porno Guardando il porno Comunque con l'idea Di spettacolarizzazione Di performance Un po' Demonizza la cosa La rende Un spettacolo Che non è Sì però Lo sai qual è il problema In questo Tony Non è il porno Di per sé È la mancanza Educazione A guardare il porno Perché se tu Guardi il porno Come lo guardi Dopo Che un minimo Di educazione sessuale Un minimo Di consapevolezza Ce l'hai Lo guardi come qualcosa Di divertente Caricaturale Che vedi Le zinnone I corpi In quel determinato modo Le braccia Le culi Sì le braccia Le culi Le persone Che al posto Del pene Hanno un figlio Hanno una piocina Hanno una cosa I pelati Che infilano le teste Cioè se tu A 13 anni Guardi un porno E prendi quello Come educazione sessuale E ti guardi In mezzo alle gambe Bestemmi E dici No io non farò Sesto Diventi pelato E ci metti la testa Esatto Diventi Johnny Sin No però Tu puoi rasare a zero A questo punto Il problema Allora io Sono d'accordo sul porno Sul tema porno Però è anche vero Che magari la filmografia O comunque Tendenzialmente Si tende a creare Un po' questo immaginario Cioè tipo 50 sfumature di grigio Cioè il tipo che scopa forte O comunque In realtà il porno Vabbè ci sta Uno dice caricaturale Lo guardo E capisco che è follia Pura immaginarsi Una cosa del genere Però anche tutto Invece quello che è il contesto Magari della narrazione Più romantica Delle commedie Comunque dà la visione Dell'uomo Cioè che ti scopa bene Quello è secondo me Invece Un po' più Un po' più tricky Cioè quello è più educativo Già Sì però Quello magari Il romanzo fatto Per fare eccitare Le persone Che hanno quel determinato Tipo di fantasia E possono rientrare Cioè è assolutamente Legittimo Avere la fantasia Di un uomo Che te scopa bene Te scopa forte Ma provoca piacere Banalmente È una cosa Penso per una donna Sì Anche per un uomo Certo Sì Non sovrestenderei A tutte le persone Però ci sta La persona Che dice Quello che mi sderena Mi piace Capito No ma anche Cioè banalmente L'idea è che un rapporto Provochi piacere reciproco Però passa tutto Secondo me un po' Dalla comunicazione Da quanto si parla Ci capisce Sì quello assolutamente Io una cosa Che dico spesso È soprattutto Il riferimento All'ansia prestazione Se te ti approcci A un atto sessuale Pretendendo che fa Una prestazione Con una persona Con cui non hai mai Fatto sesso Finora Che cazzo devi fa La prestazione Che non sai Quella persona Che cosa vuole Dal sesso No Quella persona Sa cosa tu vuoi Dal sesso Quindi la cosa Migliore è che Le prime volte Si accetti Il fatto E si tenti Un approccio Più comunicativo Esplorativo E questo Cioè Abbassa molto L'aspettativa Rispetto a quello Che può essere La prestazione Che cazzo performi La conosci Sai quello che Un po' come una squadra Che si allena la prima volta Tipo io Preparando la puntata Pensavo Tutte le volte Che Vado a letto Con una ragazza Che mi piace O che comunque Per cui provo qualcosa Che non è Il stesso Occasionale O De botto Faccio fatica A eccitarmi subito Cioè Una cilecca Nel senso Ho dieci minuti In cui devo carburare Infatti magari Non mi spoglio Ma stiamo già Poi Va a dise Che ho bisogno Di la ricarica E a un certo punto Poi mi parte Vado più tranquillo Però se provo qualcosa Sono sempre più lento Cioè la cilecca Secondo me È anche Avvalora Il sesso In qualche modo Le dà quasi Quel tocco Di emotività Vuol dire Se ci fai cilecca Vuol dire che ci tieni Ci tieni Io per esempio So l'opposto di te Nel senso che a me La cilecca Capita più Nel sesso occasionale Perché lì Magari è single shot Devi da tutto per tutto E non è che poi Fai La prima volta Con una Che ti piace Vai tranquillo Più se è una Che magari Single shot Capito Che sai che ti abbombi Una o due volte E poi basta Invece se So con una persona C'ho intenzione Avecce una relazione Tutto quanto Mi sento molto più rilassato Perché so che c'è altro Però la prima volta Che la vedi nuda A me crea sempre un po' Personale chiaramente A me crea sempre un po' Di soggezione Ti dico cilecca Sistematica Scrivi pesca Scrivo pesca Nei DM Faccio pesca live Pesca live È una cosa molto Molto comune E la cilecca Ti succede Prima dell'atto sessuale Mi piace No io Lo so E quindi Aspetto Di eccitarmi Magari Sono nell'intimo Con una ragazza Che mi piace Magari siamo già usciti Un certo tipo Di trasformazione Porto Tengo i pantaloni su Quando poi mi eccito Sono passati 15 minuti Di gloria di Andy Warhol Lì vado tranquillo Mi è capitato Con praticamente Tutte le mie ex fidanzate Loro non lo sanno Ma mi è capitato Quindi tu fai tipo Il prezioso Cioè i pantaloni Mi faccio tipo Aspetta un attimo Che sto a far segreto Cioè scusa un attimo Tranquilla E poi a un certo punto Mi ricalo Quando sono entrato Quando sei pronto Ma proprio Ho bisogno di empatizzare Sessualmente Con una persona che mi piace Con una che invece Non Magari mi piace Ma è one night stand Chi se ne prega Tranquillo Mi accito prima Però sai una cosa C'è molto Il maschio C'è molto la cosa Dei farsi trovare pronto Che te dirigi i pantaloni E c'è il pisello Super dritto Mentre è anche capace Che magari dirigi i pantaloni A una ragazza E non è che sia così Lubrificata E ci sta Cioè sei dall'inizio L'atto sessuale Quindi ci sta anche Partire da un pene Che sia anche un po' morbido C'è anche quella consistenza E può essere interessante Il barzotto Il famoso barzotto Il barzottino Il mio pene da barzotto Mi piace un sacco È la versione del mio pene Quando mandi le foto Le mandi da barzotto Non ho mai mandato Una foto del mio cazzo Mai No rimedi Mannamela a me Ok Pesca E gli mandi la foto In cazzo Però da barzotto È bellissimo È la versione più bella Diciamo Le tue origini Parlano per te Una cosa Una cosa importante È che consideriamo Sempre le dimensioni Ma non la bellezza del cazzo È bellissimo È bellissimo Anche tipo pestinare il cazzo A carezzarlo No è vero C'è proprio ditto Cioè sembra tipo spensierato Le gare di bellezza dei cani Con i cazzi Questo cano Io sono d'accordo con Livio Sono assolutamente d'accordo È vero Io sono molto d'accordo No c'è molto di più Sulla ragazza Che ci vuole avere la patata Bella Oddio Ho le labbra inferiori Più grandi Quelle Le piccole labbra Grandi labbra C'è una sproporzione Farà Sì Se vedi la patata Appena prima volta L'hai vista sempre in porno Magari Una patata Atipica Diciamo Che poi in realtà È molto più comune La patata Con le piccole labbra Che in realtà Sono grandi E allora Lì dopo fa strano La prima volta Che fai sesso Già dalla seconda Alla terza patata Che vedi Ma poi Già che la vedi Non è la giornata Patata Non ti metto a fare prezioso Patata è sinonimo Di vagina Diciamolo per chi Fregna Esatto Per chi non parla italiano La proporzione Ragazzi Ragazze Che ti chiedono Che ti mandano la pesca In DM Cioè più o meno Più o meno pari E paradossalmente Io avendoci 75 80% Pubblico femminile È un bel equilibrio Probabilmente A 60-40 A livello di consulenza Insomma Le ragazze Sono mediamente In Italia Più propense A parlare pubblicamente Di sesso Rispetto a quanto Non siano gli uomini Perché noi Abbiamo sta cosa Che il sesso Lo sappiamo Siamo bravi Tutte queste cose qui Invece Giustamente Una ragazza È molto più interessata Al sesso Perché cresce In un contesto In cui La sessualità femminile È molto più misteriosa Certo Mentre quella dell'uomo È proprio a livello di ricerca Più studiata Negli ultimi decenni Se sta studiando Ma in che senso No no Questa parte È più nota A livello A livello Qual è la differenza Dalla sessualità maschile E sessualità femminile È cazzo No no Cioè Scusa L'ignoranza No no Figurate Cosa vuol dire Sessualità maschile Nel senso l'atto Del uomo Il funzionamento Sessuale Proprio a livello Di come funziona A partire dal desiderio L'eccitazione Le varie fasi Della sessualità Come funziona Poi a livello genitale Magari quella Che può essere L'esigenza di un uomo Quella che può essere Mediamente La sessualità di un uomo Ok Rispetto a quelli della donna Quindi le varie fasi Sai le classiche cose Se dice L'uomo vede in culo E si eccita La ragazza C'ha bisogno Della cosa mentale Quello è un po' Uno stereotipo Talvolta è vero Altre volte no Però questo già È un tipo di differenza Della sessualità maschile Amo se evidente Tu non hai mai ascoltato Facciamolo Perché in un episodio Livio parla del fatto Che solo negli anni 90 È stato introdotto Il clitoride Nella letteratura del sesso O sbaglio Tra l'altro Fun fact Il clitoride Non è solo Il glande del clitoride Quello che vedi È molto più È tipo un iceberg Cioè tu vedi In realtà È un organo Molto più esteso Ma la prima volta Invece Tipo il tema La prima volta Che ruolo ricopre Rispetto alle consulenze Forse anche un metro Per dire quanto sono giovani Me lo chiedono più Mi dispiace Forse ho avuto Solo uno o due clienti Che mi hanno chiesto aiuto Per quanto riguarda La prima volta Cazzo Però me lo chiedono Un botto Su Instagram Su TikTok E È un tema Secondo me Molto figo E Cioè Sulla verginità Due coglioni In Italia Perché Assolutamente Perdere la verginità E lo devi fare Con la persona Che ami Che sarai per sempre Stai a scopare Cioè Nel senso Nave scuola La prima è nave scuola Stai facendo Una cosa bella Per la prima volta E farai Si spera Ti auguro E la farai Per tutta la tua vita Prendila come Fare una cosa bella Come se te vai a fare Una partita De calcetto Per la prima volta Con gli amici Devi scegliere la squadra giusta È normale barcollare Sui tacchetti La prima volta È normale tirare fuori Sì Cioè La prima volta Poi deve essere bella Cioè devi piangere Per la No Farà cagare Perché non sai Cioè A me mi padre Mi ha dovuto dire La fregna sta sotto E non davanti Cioè È questo il fondamentale Capito Dai Curva della Roma Ma la tua prima volta Te la ricordi? Presumo di sì Me la ricordo È stata una cosa Una cosa un po' così Nel senso che C'era emozione Perché la ragazza Con cui stavo da tempo A distanza Quindi dopo tot mesi L'abbiamo fatto E mettiamo sotto Le nostre canzoni preferite Ovviamente Missionario Abbracciati Baci Lacrime La canzone preferita? Immaginiamola Qual era? No I tool Ai tempi Stavo fissa con i tool Capito Pensavo a una roba tipo ultima Quelle cose lì Era un sesso E No no I tool Quindi roba psichedelica A un certo punto È entrato Mizzio in camera Perché era la camera Di Mizzio Della casa Era il frontman dei tool Il frontman dei tool E si è giunto È iniziato a suonare live È entrato Mizzio Perché stavamo in camera Dotto dormiva Mizzio Cioè capito Cioè Mi frega un cazzo Famo qua Tanto si Sta giù al bar Così È entrato Per mettere in carica il telefono E per fortuna In quella stanza Dove dormiamo Abitualmente A Calascio È quella stanza lì E prima c'era una tenda Davanti la porta Perché Lì ci attaccavano i prosciutti Ok In quella stanza lì Poi è stata adibita Stanza da letto Per Perché Per scopare Adibita proprio No 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 Casa chiusa Per dormire Perché siamo tanti A un certo punto Si è riutilizzata E quindi c'era Sta tenda Per la privacy Perché è tipo una porta Ah quindi non c'era Proprio la porta Porta No no c'è Porta Poi tenda Perché poi Quella Quella stanza Da sul Sul vialetto Questo è il gin Non riesco a parlare Più tanto Perché il baggino È buonissimo E quindi si è fermato Sulla tenda Io vedevo la sagoma Di pizzo Zio no Non entrava L'abbracciavo Per cui Ma che cazzo Stai a fare Per cui Capito Bellissimo Salutiamo lo zio Che tra l'altro Prossimo Podcast Come si chiama Zio Fabio Zio Fabio Salutiamolo Leggendo E a un certo punto Ti ho visto La sagoma Di zio Fabio Tipo che No no Si è buono Fermati Ed allora Per rimandare Quando vieni Pensi a zio Fabio Dicci la verità No no In realtà C'ho un problema Faccio coming out Sui miei problemi sessuali Io soffro di Ejaculazione ritardata Anch'io Quindi Credo Sì Faccio difficoltà C'è proprio È difficilissimo Che io Io mi devo Ogni tanto succede Che non Però A proposito di questo Come posso fare Non ti dico tutto Grazie Cioè In primo piano Abbiamo una masterclass Di Livio Ricciardi Live Se ci fate uno snippet Su TikTok Fai milioni Ve lo garantisco Garantito Allora Facciamolo bene Cash machine Vai Primo piano Se hai problemi A riuscire a finire Se sei un maschio Quando sei a letto Con una ragazza Ci può essere Un discorso Ovvero È stato visto Negli ultimi anni Che È uscita fuori Diciamo Questa Questa teoria Rispetto alla patologia Delle Ejaculazione ritardata Per cui Una causa Può essere Il fatto di masturbarsi Con una presa Troppo stretta E Questa cosa qui In particolare Queste due dita Sotto al glande Che stringono Troppo forte Creano Una stimolazione Che diventa Irreplicabile A livello penetrativo Cioè Una patata Non sarà mai stretta Come la tua mano Che stringe tanto E quindi Poi lì Consulenzino Oppure terapia sessuologica Si sistema la cosa Questa cosa qui È stata vista Negli ultimi anni Che crea un sacco Di problematiche Di eiaculazioni ritardate Addirittura Anche disfunzione rettile Perché Senti poco Senti poco E quindi Non c'è una Non c'è una Stimolazione adeguata Affinché tu riesca A mantenere L'erezione È tutto lì ragazzi Era tutto lì Era tutto lì Ora Dopo questo video Se penso al modo Che ho di masturbarmi Potrebbe essere Io per esempio Ce l'ho un sacco Cioè posso Toccarmi Un'ora Poi l'ultimo L'ultimo step Lo devo fare Stringendo Ma siamo d'accordo Che Nessuna donna Ci farà mai una sega Come ce la Facciamo noi da soli E una donna dirà Nessun uomo Ci farà un ditalino Però Ma infatti Era prospettico Freud diceva Le pippe So come la carbonara Ognuno la fa meglio per sé A meno che non vai Al ristorante Trastevere È una massima In piazza Trilus Forse era Gandhi Che ha visto all'angolo Sì credo fosse Gandhi Non è Freud Mandela Mandela Nelson Però convieni Se d'accordo Con le pippe So come la carbonara Sì È una cosa che Tu Ti abitui a fare Sin da bambino Sin da adolescente La fai tu Nel modo perfetto Per te Come la Cioè tu non riuscirai mai A masturbare una persona Come Come quella persona Lo fa Certo È giusto così Una cosa importante Una ragazza Ti fa una sega Non ti piace Dillo Non dire Mi fai schifo Non mi piace Come me lo stai a fare Però guidiamo l'altro Tipo se lo fai così Mi piace tanto Che è una cosa Paracula Che l'altra persona Lo fa Le darò piacere La sintassica Aiuta Il sesso Ma poi c'è anche Tutta la comunicazione Del corpo Mentre lo fai Tipo Sì Sempre meglio I parole I versi Fanno tipo Acqua Fuquerello Fuquino Tutta sta roba C'è comunque Un orientamento Voi ansimate a letto? No Capita Io parlo Io parlo Parlo Tipo fai Oh dai Grande Faccio i cori della Roma Faccio i cori della Roma Oh dai I primidimi Guarda che la so Anche se sono giuventino Vabbè Non mi stacco mai Di te Forza Con il nome della ragazza Roma No no Parlo perché Cerco di creare dialogo A me eccita Parlare anche un po' Di dirty talking Però E quindi Eccitazione personale Però credo che Alle volte Come feedback Aiuta anche la ragazza A mettere La sua agio Rispetto alla Alla prestazione sessuale Bella hit Però secondo me Ansimare Nel momento in cui Te piace Ci sta Perché noi maschi Soffriamo molto Sta cosa Che sei ansimi Sei un po' femminio Sei gay Sei ansimi Capito queste cose qui Invece Secondo me Ansimare Può essere un'ottima guida E può dare soddisfazione Alla partner O al partner Anche Cioè Ribaltando la cosa Se tu stai facendo sesso Con una ragazza E quella sta muta Devi andare a motione In cinque secondi Perché dici Che gli associ Non interagisce Non risponde Ma anche farlo Un po' Artificialmente Ovviamente Se la cosa Ti sta piacendo Certo È stato visto In degli studi Che crea connessione Col proprio corpo Ma soprattutto A me Mi è successo Delle volte Al contrario Che lo facessi Artificialmente Per dare piacere E in quel momento Invece Mi Cioè È come se Non so Mi desse piacere Di causa effetto Esatto Mi dava piacere Mi veniva da farlo Poi veramente Te lo induci Te lo autoinduci In qualche modo Ansimiamo Ansimiamo tutti Facciamolo insieme Uno due tre Ah 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 Bello Bello Questo è un ASMR Che sarà scaricato Per fare Guarda lui Si sta già masturbando Infatti In questo percorso storico Mi piaceva introdurre Anche l'argomento Della monogamia Perché parlando Con un mio amico Che si occupa di storia La cosa divertente È che la monogamia Potrebbe essere considerata Magari tra 300 anni 500 anni Un brevissimo passaggio Della storia Dell'essere umano Perché l'essere umano Di fatto non è mai stato Un monogamo È un errore O Cioè È vero Non so se Storicamente parlando Diciamo Ci sono delle fonti Attendibili Che È vero Intorno al 2010 È uscito questo libro Che si chiama In principio era il sesso Che è un libro Di Christopher Ryan Di Christopher Ryan Che Che vede dal punto di vista Psicoantropologico Proprio all'origine Della monogamia Della non monogamia Cerca di indagare un pochino Qual è la verità Sull'essere umano Monogamo Non monogamo Il punto è che Sto libro Dal punto di vista Scientifico Di dimostrabilità Ha un po' di fallace Però Se andiamo Verso testi Di psicologia Evoluzionista Anche di etologia In generale Se ci documentiamo Rispetto alla monogamia Alla spinta naturale Verso la monogamia Dell'uomo O Di un approccio Più non monogamo Poligamo Una risposta certa Non c'è Nel senso Che l'essere umano È un mammifero Assolutamente adatto A entrambi gli stili E quindi A livello qualitativo Si può dire Che la monogamia È molto funzionale Alla procreazione E a quella Che è la crescita Di figli In un ambiente Che sia il più possibile Safe E costruttivo Però Innanzitutto C'è un discorso Un essere umano Poligamo È anche uno Che ha più partner Nella vita Non è necessariamente Uno che si tromba Più persone O una che si tromba Più persone Mentre stai In una relazione No? E attualmente La società L'unico modello Che ti dà Rispetto Nella diatriba Monogamia Non monogamia È La monogamia E ti dice È quello E te la ti metta Sbagliato Solo dal punto di vista Sessuale È sbagliato Vuol dire Che È un discorso Compensativo Ne stai facendo Un discorso Molto occidentale Cioè Se andiamo a vedere Ti sto a fan discorso Pure D'una tribù Amazionica Del Ma ci sono religioni Dove La policamia è consentita Sì 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 Assolutamente Ovviamente Il discorso La società ci dice Che è una questione occidentale È più come Quello che tu dici È che nell'implicazione sociale Delle cose Cioè L'idea di avere una famiglia Di una stabilità Di un confine Di una circoscrizione Ha un'utilità Perché Delimita i confini Sì Nella crescita dei figli Ma non è detto Che nel benessere della coppia Sia una scelta giusta Assolutamente Assolutamente Però entriamo in un discorso Individuale Non sociale Perché non prevede La collettività Io sto a parlare Dal punto di vista Evoluzionista Cioè Dal punto di vista Evoluzionista Cioè è una scelta quantitativa E una scelta qualitativa No? E il punto Di tutto questo È che è una scelta È anche una questione individuale Cioè Banalmente Riusciamo a considerare Sbagliato Anche che stai In una relazione monogama Guardi il culo De un'arte E te devi sentire in corpa O La piscala Il piscale tuo Te cazza Perché Apprezzi fisicamente Un'altra persona Siamo 8 miliardi Come è possibile Che hai occhi Può succedere I primi 6 mesi Il primo annetto Che sei innamorato Animal period Ma guarda il culo De Kendall Jenner Cioè E rifatti gli occhi Cioè Ma commentiamolo insieme Capito Poi è una scelta Io non voglio dire Questo è meglio Questo è sbagliato Sicuramente Se sei una persona Non monogama Che sei in una declinazione monogama Rischia di essere un qualcosa Che se non cominci a negoziare Se non cominci a trovare Dei connubi Se non cominci a declinare Quella cosa Ti puoi sentire un pochino In gabbia Però c'è un altro aspetto Nella vita si può assumere Anche se sei in un monogamo In alcune relazioni In alcuni periodi Puoi esserlo Cioè è una cosa anche fluida Sì Cambia È importante che non sia un diktat Ma Quanto mi ha scicato Era diktat Era diktat Era diktat Era quasi cursivo Era diktat Era diktat Era diktat L'hai proprio perso Vabbè Però è bella così L'importante è che non sia un diktat Lo metteremo fatto da un tedesco In post-produzione L'importante è che ci sia la scelta Ok Certo Io ho una domanda curiosa Perché guardando la realtà Parlando anche con le mie amiche Io penso che ormai O quantomeno pubblicamente Il numero di ragazze Che praticano la masturbazione È ormai pari al numero di ragazzi Che praticano la masturbazione Non so se tu hai questa percezione Sì Allora il discorso masturbazione E quanto riguarda Il mondo femminile Sì Prima c'era un botto allo stigma Magari Succedeva Ma non veniva detto Perché veniva vista Come una cosa brutta Eccetera Però c'è ancora un po' di A volte c'è un po' il piede sul freno Perché Magari c'è difficoltà Entrare in contatto Col proprio corpo Sempre per una questione culturale Oppure può essere Qualcosa di personale Bisogna vederlo Però sì Sicuramente Insieme alla wave positiva Della sessualità Si è anche sdoganata La masturbazione femminile Grazie a Gesù Assolutamente Meglio per tutti Perché è più Si parla di sessualità femminile Con più franchezza Anche perché un ragazzo Almeno parlo per me Poi dopo non lo so Cioè un ragazzo Appena scopre le funzioni Della geggino sotto Cioè tipo io Quattordici anni Mi facevo una roba Come tipo dieci Sega al giorno Cioè era Tipo superpotere La prima volta che lo scopri Tipo ma perché Non l'ho scoperto prima Questa è tipo Kame Kame A Voi l'avete fatto Da subito La sega L'avete fatta giusta A livello Nazionale Io me lo sono girato attorno Come fosse un clitone Io facevo una cosa Lo prendevo La seconda volta Io esattamente Anch'io Anch'io Oggi ho imparato Una parola nuova Mi ha insegnata Tony Che adesso la dico Vediamo Chi di voi sa il significato Ma la conosci In camera lo dico Cioè indico però Ma non è una parola magica No in realtà Non la conoscevo Parafilie Quanti di voi conoscono Il significato della parola parafilie? Tutti Sono un coglione Sandrelli no? Sandrelli la conosce Se la conosce Sandrelli Che è il benchmark Dell'uomo medio italiano Vuol dire che Grande Sandrelli Appunto Parafilie che ti scrivono Magari anche Cosa che ti consulta Io mi sento di dover Difendere la mia ignoranza E dire Adesso spiegate Cos'è una parafilia Cos'è una parafilia Poi magari Spiega Non spiegano Ok È diciamo Un neologismo Forse si può definire Rispetto a quella Che prima veniva chiamata Perversione Che è questo termine Che nel corso del tempo Ha acquisito Un significato Stigmatizzante Verso la persona Che è in una dimensione Della sessualità Che può essere atipica No? Certo Quindi che ha magari A partire da quello Che può essere un feticcio Il classico piede Che Poi vabbè Quindi si potrebbe Parlar peore De Le fetiche di piedi Come di qualsiasi altra cosa Che va verso Anche declinazioni E sessualità Che possono essere Più Più Particolari Pensiamo al voglierista No? Il voglier Come pensiamo al frotterista Che è quello Il cacold Io ti ve lo farò Cos'è il frotterista? Il frotterista È quello che si struscia O quello che tocca Quello che si struscia Quello che solitamente Sta negli autobus Ah cazzo brutto Ma invece sul cacold Io ho una curiosità Rispetto al cacold Che spieghiamo cos'è Il cacold Che in italiano Si dice Triolannia È una persona Che prova Eccita Solitamente uomo In una dimensione Aderosessuale Che prova Eccitazione Vedendo la propria Compagna La propria ragazza Scopata da un altro uomo E È una parafilia O Quando diventa È una parafilia È un Siamo nella dimensione Atipica Tra la trasgressione E la parafilia E Qual è la differenza Tra trasgressione Cioè parafilia Ha un significato Intrinseco Di giudizio morale Tale per cui Io mi ritengo a morale Assolutamente no Parafilia è un giudizio Cioè è negativo o no? No 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 Immaginiamoci come un continuum Ma c'è la normalità Che non è la normalità Il giusto Il non patologico Mi piace un sacco La definizione normale Sì 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 E normale dal punto di vista statistico Esatto Vediamola così Esatto La normalità Sì esattamente La normalità Cioè l'atteggiamento Accettato e condiviso dalla massa No No È la distribuzione rispetto ai casi A livello quantitativo Quanti più casi sono nella media Esatto No non è accettato No no È l'insieme di norme In condizioni c'è della massa A livello quantitativo Un misto di tutte e due Però non c'è un'accezione giudicante In questo continuum Esatto Tra l'altro continuum di Fabrizio Quattrini Che saluto Perché Prossimo ospite di Ginto di Podcast Fabrizio Ve lo consiglio Invitatelo perché È grandissimo Già ci parlavamo da mesi Noi Livio Ricciardi Fabrizio Fratello Lo dicevamo Anche ci demolisci anni di contrattazioni Di negozioni con Fabrizio Volendo poi ci metto in contatto Comunque sia Si parte da quella che è la normalità No però dal punto di vista statistico Più vicino a quello che ha detto Tony Poi si va sulla trasgressione Che può andare dalla pizza sul culo Alla cinturata Alla Iniziare ad entrare verso quello che è il bondage E tutte queste cose qui È una dimensione più kinky Quello che viene definito kinky Ma è già parafilia Quella roba lì? È trasgressione È trasgressione Poi c'è la dimensione parafilica Ok E poi c'è il disturbo parafilico Parafilico E poi parafico Parafico Brasileiro Parafico E poi c'è il sex offending Che è proprio una dimensione Pensiamo a Lo stupro Ve lo sono immaginata Cerchi concentrici Normalità Trasgressione Parafilia Parafilia Disturbo parafilico Sex offending Ok perfetto Triolannia Sarebbe Quando provi Eccitazione Sordidamente È una questione maschile In una dimensione Eterosessuale Provi Eccitazione In vedere La tua partner Fare sesso Con un'altra persona E viene vista Come una cosa Oddio Ma come fai Ma che sei matto In realtà In realtà è una perfetta Definizione Di quella che può essere Una declinazione Di fantasia Di desiderio Atipico Costruita sul fatto Che Questa è una teoria Psicodinamica Molto importante Che permette La comprensione Delle fantasie Sessuali Ogni persona Ha degli schemi Nella vita Degli schemi Di lettura Del mondo Anche su se stesso E poi esistono Gli schemi patogeni Che sono Per esempio Mi devo prendere carico Delle responsabilità Altrimenti L'altro sa male Non valgo abbastanza Non sono meritevole D'amore Eccetera Cose che Nella vita Si possono avere E spesso e volentieri Si hanno Quando una persona Sente eccessivamente Il carico Di responsabilità Del piacere Dell'altro E questa cosa Si declina Anche nel sesso La triolannia Non diventa Altro che Uno scarico Di responsabilità Come se la fantasia Facesse da filtro Rispetto a questa Questa cosa Che si chiama Credenza patogena Dalla serie Scopatela te Perché io non mi devo Prendere la responsabilità Del suo piacere Chiarissimo Io mi ricordo Anche ci stanno Dei casi clinici Ad esempio Di persone Assolutamente Etrosessuali Che avevano la fantasia E si masturbavano Sul fatto Di essere penetrati E questo Anche questo era Prendite tu La responsabilità Io mi godo Il fatto di Godere E tu ti stai prendendo La responsabilità Di penetrarmi Era una cosa Assolutamente safe Una cosa assolutamente Positiva La fantasia Non c'è niente di male L'importante è che Sia vissuta In modo In psicologia Si dice Ego Sintonico Non che causi stress O ci si senta sbagliato In questa cosa La mia domanda è E poi L'ultima Passiamo oltre Holly Fouse Da cosa nasce Cioè Qual è il bisogno Di una persona Partiamo da Da due assunti Uno È la perfetta Declinazione Dell'amatorialità E l'ho detto Dopo due gin tonic Quindi voglio Un applauso Amatorialità Amatorialità Diciamolo tutti insieme Amatorialità Ma che bello Il nostro pubblico Di 60 persone Qui in questo studio Il fatto che sia Una cosa molto vicina Molto poco costruita Con la videocamera In HD Del porno Con il porno attore Cioè lì c'hai La sex worker Che ti mostra Anche lei Appena uscita Dalla doccia Oppure che sta Nella sua cameretta E si masturba Quindi è una cosa Molto vicina Secondo poi Il meccanismo Che funziona molto Tra social Che ti porta Poi Del suo All the fans È La Quasi la realizzazione Del desiderio Di vedo la fregna Su Su Instagram Su TikTok E la posso vedere nuda È quella cosa lì Che tu vedi Anche l'amica tua Conoscente La La modella E tu sai che poi Puoi traslare Verso la sua La sua nudità La sua sessualità Quindi essendo una cosa Così vicina C'ha bisogno di Avvicinare Il bisogno qual è Quello di avvicinare La Quel tipo di persona Quel tipo di Di bellezza Quel tipo di attrazione Quel tipo di desiderio A te Piuttosto che vedere Magari la 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 porno star Che sai Sì sì Non c'è nessun Nessun livello affettivo Che è costruita E invece È una cosa vicina Però C'è da dire Che un sacco di gente C'è varota con gli fans C'è gente che si fa C'è un po' la cosa Il detto Se te fai un abbonamento Te ne fai dodici dopo Ah sì Cioè che diventa una dipendenza Quasi da Da pagare Fiona io sono un grande amante Del sexting Mi sono trovato a farlo Più volte Perché Mi piace un sacco Mi diverte Mi crea Un'interazione diversa Mi piace Sta rota Però mi sono chiesto Quando A un certo punto Quanto Dovrebbe durare Perché poi non si propaghi Nel tempo eccessivamente Cioè se poi diventa un sexting Durevole Ma poi magari non si concretizza In altro Comunque Regole Usi E condizioni Del sexting Allora Uno SS Assolutamente SS come Parlare con una persona Quando ci parli Per chat O quando ci parli Al telefono O in videocamata SS Perché c'è interazione Sì c'è interazione Assolutamente C'è fantasia C'è orgasmo C'è agitazione Non sono d'accordo Bro però Cioè Chi è il sessuologo? Capito Non voglio metterla Su questo Ma perché non sei d'accordo? Perché non c'è il contatto umano? No non sono d'accordo Boh non l'ho mai fatto Quindi Cioè Non mi Non l'ho mai fatto Quindi non posso non essere d'accordo Cioè non posso essere d'accordo Cioè Come fai? Cioè non può essere la stessa cosa Nel sessuolo No no Non sto dicendo per la stessa cosa Sto dicendo che è comunque attività sessuale Ah ok ok Lo è E questo è molto importante Nel senso che Stiamo parlando comunque di un qualcosa Che c'ha una risposta sessuale Che c'ha un contatto sessuale Che c'ha anche dei fattori Che possono essere positivi Tantissime persone Si sentono molto più tranquille Nel sexting Che nella sessualità Quella Carnale Che può essere vista Sotto notte Forse c'è qualcosa che non va Esatto Non sono d'accordo esattamente per questo È come fare una live su Twitch O presentare un evento in diretta È la stessa cosa Però lo sai fare comunque Potresti farlo fare comunque Il sesso secondo me ricopre Poi appunto Il fatto di averti invitato qua Per me è anche In assoluto Vabbè un onore Penso per entrambi Assolutamente Perché dopo che ci siamo conosciuti Veramente io penso che il sesso Ricopra una parte fondamentale Nella vita delle persone Infatti ti ringrazio Per quello che fai Quello che è il tuo mestiere Perché Ad un uomo Può dare sicurezze Insicurezze Comunque è una parte fondamentale Nella vita di un essere umano È una delle parti più belle Anche penso O più brutte A seconda di come ne si vive E quindi questa cosa del sexting Io mi proietto già Magari in una dimensione In cui avrò una figlia O un figlio Eccetera eccetera E caspita Penso che sia una cosa Assolutamente seria Infatti quando tu la paragoni al sesso Gli dà onore Questa cosa del sexting Vuol dire che va valutata Con le metriche giuste Però è anche vero Che secondo me Toglie tanto Cioè il rischio È proprio quella Che magari si crei Una vita E un approccio al sesso Completamente schermato E a me quella cosa lì La fa stidio Perché secondo me Il sesso mi ha insegnato A livello Diciamo anche di personalità Tante volte Andare oltre le proprie paure Cioè quando io volevo fare sesso Con una persona La conoscevo in discoteca Avevo oltre la paura Di dire il primo ciao Di invitarla a cena Ed è quello un po' Che ti dà la forza Invece è molto più semplice Magari avere una relazione Basata sul sexting Quindi ti scrivo ciao in DM O ti mando la foto del cazzo Di detto Quando tu la vuoi Ma non accade così Questo non è il sexting È un attacco Non avendolo mai fatto Mi sento molto tipo boober Secondo me ha molto senso Quello che hai detto Però è una delle possibilità Nel senso che Il sexting può essere Un'opportunità di comunicazione Tra due persone Riguardo a quello che Fai citare Entrambi Riguardo al sesso Per poi fare Un sesso Al di fuori del digitale Può essere Un'ottima risorsa Nelle relazioni a distanza Perché crea vicinanza Mantiene l'intimità Crea eccitazione Crea aspettativa Crea proprio Sessualità Tra due persone Può essere una cosa Estremamente eccitante Proprio perché Può aiutare la persona Che magari ha Può aiutarla E può aiutarla anche Nel sesso concreto Perché può essere Una dimensione Preliminare Quello che è il sesso Effettivo In cui Ci si mette A nudo Concretamente Magari anche Con la condivisione di news Con un'altra persona E questa cosa qui Può farti rilassare Rispetto a quella Che è un'aspettativa Rispetto a un atto sessuale Si può condividere Può essere un ottimo modo Per comunicare Le proprie esigenze sessuali Quindi c'ha tutta una serie Di lati positivi Diciamo una cosa Altrettanto importante Per quanto riguarda I nudini Ci devono essere Delle regole ferree Da seguire Ovvero Sendo così diffusa La pratica Della condivisione Non consensuale Di immagini altrui Esplicite Che viene detta comunemente Revenge porn Ma è un termine rivedibile E' molto importante Utilizzare Innanzitutto Un servizio di messaggistica Che tutela No? Quanto meno C'è la notifica Dello screenshot Che potrebbe essere Banalmente Instagram con la bombetta Whatsapp con il privato Whatsapp con l'uno Whatsapp con l'uno Non ti fa fare lo screenshot Che è una bomba Poi la gente dice Eh fai la foto al telefono Yes Mentre Instagram con la bombetta Ti notifica Ti fa sapere Che deve appare Il boom Te lo dici allo screen Questo lo dicono gli esperti Superarsi in questo senso E non mettere mai La faccia Sono molto d'accordo Sì è uno strumento Cauterativo Passerei a un momento Peculiare del nostro podcast Che poi è tanto agognato E che accade solitamente In coincidenza Con il gin tonic vuoto Che è il terzo Ormai di questa puntata Le domande ubriache Questa puntata uscirà Quando il festival di Sanremo Sarà già un lontano ricordo Ma chi vince Sanremo Così i nostri spettatori Penseranno Livio ci ha preso o no Rapidi A Roma A Roma E quindi ultimo Ultimo non mi piace Ultimo arriva ultimo Allora vabbè Mengoni ha fatto Ha fatto una bomba ieri È arrivato pure prima Però ti dico Stiamo girando il giorno dopo la prima Io spero Paola e Chiara O con l'azio Ma te dico Pure con una cosa Sono stati cuccioli Dammi il vincitore A few moments later A cazzo Elodie lo vince Lo vince Ha fatto una hit Incredibile Grazie amore Due Si chiama due la canzone Sì Quindi Elodie vince Sanremo Sì Devo guardare Elodie vince Sanremo Se è successo Scrivete al libro Non pesca Ma tipo Il penguin Li chiedete le schedine Qual è il tuo guilt Fa la giornaletta Facciamo finta Che non c'è la tua ragazza Di fronte a noi Lo squirt Il tuo Può squirtare anche l'uomo Sì Cioè Esisto C'è una teoria Riguardo lo squirt Non è mai successo No no Non ho mai fatto Mica ho detto Faccio sempre Io non l'ho mai sentito Era figato Dici C'è una teoria Che spiega lo squirt Come un riempimento Della vescica Una pisciata Sì più o meno In realtà Un riempimento della vescica In preparazione L'atto sessuale Come poi Liberazione Di quello Che si accumula Nell'uretra Di entrambi E lo squirt Come l'espulsione Di questo fluido E quindi potenzialmente Ogni essere umano Indipendentemente dal genere Può squirtare Attraverso tutta una serie Di pratiche Io rispetto Il tuo squirt O quello Della parte Però può squirtare anche un uomo Il che è una rivelazione È molto più raro È molto meno diffuso Ci stanno studi Che attestano L'esistenza Dello squirt maschile E rispetto a questi studi qui Sono un po' scettico Perché non considera Tutto un'altra E tra l'altro Considera Una coincidenza C'è un qualcosa Che coincide con l'orgasmo Quando non è sempre così Può essere una cosa preliminare Può essere una cosa Totalmente distante Non è la stessa cosa Che un orgasmo È quella classica chiusa Su cui i sessuologi Con quelli studiosi Qualcosa direbbero Ma la letteratura Non è ancora chiarito Esattamente Non è ancora arrivata Io voglio fare Il dottorato sullo squirt Se faccio il dottorato Lo faccio sullo squirt Perché non sono rotto il cazzo Noi veniamo Quei corriandoli fuori Siamo quei Quei manigori Con la sciarpa da roma Cioè io voglio uscire Con uno studio Lo squirt è questo Basta Fine da discussione Tesile Libro A proposito Vedo un'altra domanda ubriaca Che secondo me è interessante Allora Ti metti di fronte a una scelta Tu puoi scegliere tra Un libro Best seller Un milione di copie Oppure Un programma Su Amazon Prime A tuo piacimento In cui si parla di sesso E puoi dire quello che vuoi Da te condotto Da te condotto Quindi libro Best seller Oppure programma Da te condotto Vi dico Probabilmente libro Perché rimane di più Cioè c'è molto la cosa Come ormai Con le serie tv Come i programmi A meno che non sei Fazio A meno che non sei Letterman La cosa che rimane Non c'è Un po' come la musica Che esce il venerdì Il venerdì dopo Script Amanant Sì esattamente Serie Vulant Sì serie Vulant E poi il libro Alla serie la porta Su Prima o poi Mi ce vedrete Sono abbastanza convinto Vabbè ci siamo Quindi un libro Un libro di Livido Ricciardi Ce l'aspettiamo Ma pure una serie Lo fai nudo come Alessia Lanza Ti copri Sì sì Mi copri i capelli E il moscione Il barzotto Metti quello di Amos Lo post produci Io ho il miglior barzotto D'Europa È un'esclamazione Un'asserzione molto importante A cosa pensi Tendenzialmente Per rimandare l'orgasmo Non c'ho sto problema Però Però De base No io uso le tecniche Cioè se proprio Mi succede Che magari Sto venendo Un determinatore Dine una Lo start and stop Che sarebbe Premi sotto la base Sotto il glande Aspetta Questa facciamo bene in camera Cos'è Fiat questo Però 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 Se soffrite D'eagulazione precoce Andate da un sessuologo Si risolve anche in tempo In poco tempo Però Una tecnica La cosa del glande Quando stai per venire Devi imparare a riconoscere Quali sono i tempi I tuoi tempi D'eagulazione Ma puoi premere Sotto il glande E questa cosa Ti aiuta a ritardare L'eagulazione Sfili un attimo Premi sotto il glande E Rallenta Rimanda in giulo Lo smegma No lo smegma è un'altra cosa Lo smegma è quello spogno Lo sburo Lo sburo Quello che comunemente La letteratura chiama Lo sbugba Lo sburo Il dictate E Perché hai ritirato fuori Mi piaceva chiamarlo così Il dictate Sai che è amore Oh io ho dictato O faccio Oh potremmo coniarlo Allora Pornatrice preferita All of time Cioè proprio Eh Allora Ti dico quella Da ragazzino Stava rota proprio Con Aletta Ocean Però Grandissima artista Secondo me Sasha Gray Sarò Ma Sasha Gray Aveva quella cosa E proprio Attitude Capito Bello La Natalie Portman Del porno No no Non mi toccare No Natalie Portman No perché l'hai detto Perché Natalie Portman È una bravissima attrice Io sono mezzo innamorato Di Natalie Portman Ok no no È curioso Per me per esempio Le Che non sono omonime Ma non sono parenti Le Anne Sono delle grandissime Lisa e Giulia Lisan però a un certo punto Ha si messo Ha chiuso Sì sì Però è diventata Lei ha fatto il ritiro come Totti A un certo punto della carriera Sì Il discorso in pubblico C'era tutto Le cose della scuola Di far Che ne pensate di Danny Camori Che è un Con il tipo Che scopano Con il fidanzato però Sì Buonanetta A me non piace No io la trovo una grande Performer Gran frame No Gran perform Secondo me sono due Due persone che sanno Quello che fanno E lo fanno bene Io vi dico una cosa Non voglio fare quello Lo scoperti antelittera Ma mi ricordo Di una volta Mi facevo le sega Ancora al pc Erano usciti appena Correva l'anno del signore Non so che cazzo E anno fosse E mi ricordo Che un loro Sex tape Fatto un webcam Che Cioè Io mi ricordo Lui Con un fio Come dicevamo Come dicevamo Poc'anzi E lei In grado di accogli Mi ricordo Questo Reverse 69 In cui lei stava sotto E lui stava sopra E utilizzava la bocca Come se fosse un orifizio Sessuale E stavo così No è interessante Perché Livio Ricciardi Si può dire In qualche modo Sia il padre artistico I Danica Mori Steve Mori L'uomo che li ha scoperti Antelittera Non l'ho mai più trovato Quel video Io mi ricordo Che le settimane dopo Andavo là Io stavo già pensando A uscire di qua Bibliografia Durante le scale Tipo Danica Mori 69 Invece no Non lo trovi più Invece Penso l'abbia rifatto Più e più volte Adesso sono tipo Gesù Cristo Sanno primi Tra l'altro io non guardo porno Così Ah si De botto Si perché Ma mi sono rotto le palle Tra l'altro Non so se notate Ma tutti quelli Che fanno i soldi col porno Vanno a vivere a Tenerife O alle Canarie Chissà perché Chissà perché Ma è massa strana Io Noi abbiamo un'altra domanda Questa è molto personale Ma vedo che non è un problema Valuta da 1 a 5 Quanto sono importanti Per te Questi aspetti del sesso Partiamo con La capacità Della partner Sessuale Sessuale Generale Di praticare Una fellazio gratificante Un pompino 4 4 su 5 4 Ho detto un poco 4 Maestro Califano Hai detto 4 Perché è importantissima La partner Premi per farlo In una posizione Che non ti Non ti dà soddisfazione Tipo il cucchiaio Il cucchiaio è una merda 5 minutini Dedicati al cucchiaio Si possono fare Però nel frattempo Sto così Guardo il sofì Penso a Roma Alla fisica quantistica A Roma Er 2001 Così L'erezione C'è Matti Stuta Oh Gabriello Rifallo Ti prego Vincenzo Montella Aldair E qua la mia cultura Ti ho dimostro Grande cultura Sono un maschio Infatti ho notato Una lieve erezione Per Livio Se vogliamo alzare la camera Tocca a me Dirty talking Una cinque Ma non è troppo Cioè È più Dirty talking Senti come ho detto Il romano Dirty talking Come dicono A baldwina Dirty talking So più de corpo Che de parole Quindi? Quindi più Da una cinque? Da una cinque Forse Due 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 su cinque Igiene personale Non solo intimo No Diciassette Che è il numero Di Roma Non mi viene nessuno Biancheria Tommasi Damiano Tommasi Sindaco di Verona Sindaco di Verona Damiano Tommasi Biancheria intima Si cazzi Tre Beh Io gli avrei detto Anche due Tre Però è sua È sua Cioè nel senso Se becchier Mutandone La tua ragazza Ma da tipo Tre Cioè è importante No a me il mutandone Mi piace il cucchiaio Il mutandone Tipo pannolino Mordo È che lei Solitamente Si veste da Quelle È una casa di moda Da anziani Tipo non so Ma fai finta che non c'è Enrico Covery Enrico Le mutande Enrico Esatto Cioè nel senso Non è Né un turn off Cioè nel senso Pure se Con i boxer da uomo Pure se lei sta in pigiama Non me ne frega un cazzo Cioè se me parte a nave Mi piace soltanto Perché parlavamo con Enrico Da mesi di una sponsorizzazione Al podcast Però stasera Livio ha deciso Di tranciare questi 200 euro Messi Quanto dura Mediamente C'è una risposta giusta Le altre sono ovviamente sbagliate Quanto dura mediamente Un italiano letto Statisticamente Le opzioni sono Aspetta le opzioni Diamo L'accendiamo Facciamo tutto Jerry Scott 3 minuti E 35 secondi 6 minuti E 40 secondi O 2 minuti E 50 secondi 6 minuti Sbagliato Non l'accendiamo Facciamo Sì sicuro L'accendiamo Sbagliato Spiegala tu però Allora 50 e 50 Puoi chiedere l'aiuto a casa 2 minuti Esatto Puoi chiedere l'aiuto a casa Io spero Sbagliato Sarà l'altra 2 minuti e 50 2 minuti e 50 Ho cercato una ricerca Dell'università Di non mi ricordo dove In Inghilterra Hanno fatto tutta una media Per paesi europei L'italiano 2 minuti e 50 Come rapporto Senza preliminari Il rapporto Solo penetrativo Penetrativo Io mi ricordavo 5 e 6 Anche meno Bisogna avere vari studi Però ok Ok No ok Un cazzo raga 2 minuti e 50 No no Infatti venite in consulenza Scrivetemi Pesca su Instagram Ma Lìvi e Ricciardi Gli dovete pagare L'abbonamento Va bene tutto Però 2 minuti e 50 Ce la facciamo ancora Dai Ma fosse così Scopo 20 volte al giorno La tua celebrity crush O Celebrity crush Amanda Campono No No in realtà Cioè Amanda Amanda è quella Che è caduta Tra le 3-4 crush Che c'ho È quella che Tra Jennifer Aniston Amanda è stata Una crush per me Cioè quando L'ho tipo vista Ho detto No io me la devo Quanto meno scopà Poi ci sono andato sotto Però vabbè Però De base C'ho Cioè al di là di Amanda C'ho Kendall Jenner E Elf Henning Ok Un luogo In cui non l'hai mai fatto E tendenzialmente Vorresti farlo C'è una Sperimentazione Sperimentazione Luogo Forse Allora Sono una pippa A fare sesso Sotto la doccia E l'ho fatto Tipo L'ho provato a fare Tipo 4 volte in vita mia È andata sempre Vorrei riuscire a fare sesso Una volta nella doccia Però in realtà Me ne frega un cazzo Perché io sono molto Cioè nel senso Un luogo esotico Anche un posto Tipo nei camerini Degli Oscar Che ne sono Un luogo dove ti casere Ah tipo capito Capito Ah Nello spoletorio Dello stadio olimpico Una cosa del genere No sai che puzza Sai che puzza le merda Sperdotto ora Nella gestione Dai sì Un camerino Prima di salire Su un palco Potrebbe Non è male Perché comunque Sali lì E sei casato Beh l'ho forzata C'è anche la prossima Ok Trissom Due donne Un uomo Due uomini Una donna No Due pischelli Due pischelli Sì sì Due pischelli Che tra l'altro Sono due coautrici Del libro Di Rick E dopo quanti Gin Tonic Sei dimitosamente Brillo Ma ti dirò Cioè adesso Prima c'ho avuto Un attimo E stavo Mo invece sto Sto ok Allora Ai tempi d'oro Reggevo anche Cinque sei negroni Cioè Al sesso negroni Stavo una merda Però Di quattro Riuscivo a Intrattenere Una conversazione A deambulare Adesso bevo Molto meno Cioè mi sto dando Una carmina Ho cominciato a lavorare Cioè tutto quanto Gin Tonic Non ho mai bevuto In realtà Più di tanto Più tipo da negroni Campari spritz Tutte queste cose qua Adesso secondo me Al terzo negroni Comincio Inizio D'ora in poi Al terzo negroni Fammi questa promessa In diretta Per gli ascoltatori Di Gentoria Podcast Al terzo negroni Per dire ai tuoi amici Che sei obbligato Farai Dictare Promessa L'ha promesso Firma del contratto La domanda che nessuno Vuole fare Ma dopo quanti cocktail Non ti si alza più Dopo uno e mezzo L'alcol Caramanda Stasera si guarda Sanremo Stasera Per me L'alcol Mi leva Il sesso E mi lascia giusto La coliardia C'è quella cosa Tipo Ah sì Mi faccio Capito Il limone Così Poi il pisello È proprio Non lo sento Io poi So poco sensibile Mi facevo le canne E il pisello Morto Proprio E funs Quindi dici Effetto di sostanza Di qualsiasi natura Deleterio Sul tuo Cioè l'alcol Se me faccio un drink Non cambia niente Se me ne faccio Già due Due me Per sentire gli effetti L'ebbrezza Ti crea problemi Sì Mi cambia proprio Il significato del sesso Cioè tipo La parvenza di scopà E non più scopà Ho capito Ho capito Mi sincero È detto una cosa Veramente profonda In modo veramente leggero Però è detta profonda E condivido È tipo una cosa Che amo Si porterà per sempre A dire al suo figlio Qui facciamo una domanda A tutti gli ospiti Che vedi lì Se salutiamo Venuti a corsi Negli anni Qui in gintoneria Vivo del passato Ti piacerebbe uscire A bere un gin tonic Se devo andare sorpresante Dico Vivo Anche vivo Io del passo a chiunque E dico Ne posso di tre Vai Tre non ne ho Nessuna Nice Woody Allen E Kanye West Vabbè puoi farlo tutti insieme Mi aggiungo anch'io Perché è meraviglioso No Woody Allen È un uomo La sua autobiografia È meravigliosa È di una Di una Delicatezza Emotiva Io quando sto male A caustico Io quando sto male Psicologicamente Ma soprattutto Sentimentalmente Mi vedo un film A tv di Allen Sto benissimo Io invece mi guardo Un podcast Di Gintoneria Podcast Oppure facciamolo podcast Con Livio Ricciardi Che è stato con noi Ospite del 22esimo Episodio di Gintoneria Andava fatto Andava chiuso Perché c'è la tua fidanzata Off camera Che dice ti prego C'è DJ Gialdi Che è già morto Dietro il palco di Sanremo Blanco ha già sfondato Tutte le hortenzie Oggi ha cambiato fiore Quindi Tra l'altro Quando uscirà questo episodio Avrà già vinto qualcuno Sanremo Ricordiamo che Livio Ricciardi ha detto Elodie Io personalmente dico Marco Mengoni Amos Vuoi esprimerti? Io dico Comacose Comacose Non ho sentito nessuna Dicare delle canzoni Manca ancora Ah vero Ora posso dirti Chi spero vinca? Tananai Perché sarebbe una storia Di rivalza incredibile Grande Tananai Da ultimo a primo Tananai Che tra l'altro Il prossimo ospite Di Gintoneria Podcast Alberto Un amico Saludiamolo Non è mai vero Noi scherziamo sempre Beh io lo conosco Tu che non lo conosci Se vuole venire A festeggiare Il leone Cosa si vince? Il leone d'oro Il leone rampante Il leone rampante È il benvenuto Sulla palma Nel mentre Iscrivetevi a Gintoneria Podcast Seguiteci su Spotify Livio Ricciardi è stato con noi Grazie mille Grazie mille Forza Roma Grazie a voi Forza Roma Sam Forza Ju Siamo prima Magica Dai Paolo Di Bala Quanto è bello Da di fare Tortellini alla Paolo Di Bala Allora Facciamo un coro finale Per Com'è quello della Roma Se i tuoi colori sventolo I brividi mi vengono Non mi stacco mai di te Gintoneria Forza Gintoneria Bella cafonata Mi è piaciuta No Yeeha